billy eilish ha annunciato la pubblicazione di un libro fotografico ed un audiolibro in arrivo per la prossima primavera la cantante californiana lo ha annunciato su instagram dove ha anche pubblicato la copertina del libro il volume intitolato semplicemente billy eilish verrà pubblicato il prossimo 11 maggio e conterrà centinaia di foto inedite selezionate dall'artista dall'archivio e dagli album fotografici di famiglia